Allora, nel video di oggi vi faccio vedere i prodotti che ho ricevuto da YesStyle Si tratta di prodotti anti-age Io ormai ho 42 anni, anzi 41-42 a novembre E quindi inizio ad utilizzare ormai da tempo questi prodotti Questa tipologia di prodotti E vi faccio vedere quello che mi hanno inviato Allora, iniziamo dal contorno occhi Come contorno occhi mi hanno inviato, io già ho iniziato ad utilizzarli Della Centellian, la crema, appunto, light cream, quindi contorno occhi Questa qui, mi piace molto soprattutto la confezione Perché sembra comunque una pomata Tipo quella, diciamo, la classica pomata Però ha una consistenza molto cremosa, molto densa E si stende però molto facilmente nel contorno occhio La applico praticamente dall'interno fino andando all'esterno E la tiro un pochino anche verso le tempie Quello che mi rimane poi la applico sulla palpebra mobile Il contorno occhi è molto idratato Molto più compatto, molto più fresco E mi piace parecchio Quindi continuerò sicuramente ad utilizzarla Un altro prodotto che mi è stato inviato è il siero con i green tea Questo contiene il 77% di estratto del green tea Che proviene dall'isola di Jeju È una delle isole della penisola coreana E aiuta a regolare il sebo Quindi se si ha una pelle un pochino più grassa Un pochino più secca Comunque tende a normalizzare tutta la pelle del viso Mi piace molto la pelle è compatta Fa l'effetto quello quando fai così appiccicoso di salutare E poi ovviamente viene seguito dallo stamp della crema idratante Però a volte anche non la applico Quindi mi fermo al siero Perché comunque ha un effetto molto molto intenso Molto piacevole, molto idratante da quel punto di vista E spesso appunto non ho necessità della crema idratante All'interno la confezione è così È così Ha il suo contagocce E se ne applicano 3 o 4 gocce sulle dita E poi si vanno ad applicare Io in quel momento faccio anche un massaggio Con questo qui Che è un prodotto che serve per massaggiare Per far penetrare meglio i prodotti Ma soprattutto per simulare ad esempio La lotta alle rughe per tonificare il viso Semplicemente si preme Poi all'interno ci sono le indicazioni Con le istruzioni che praticamente ti indicano Il percorso da fare Quindi ad esempio Fare Ad esempio così Ti indica tutto il movimento da fare Per far assorbire meglio il prodotto Sono dita rossa Per assorbire meglio il prodotto In base a quello che tu devi fare Quindi se far sviluppare Far assorbire meglio la vitamina C L'azione anti-age Antirughe Far assorbire il prodotto Quindi comunque ha diverse funzionalità Che sono appunto indicate Nel suo manuale di istruzione Un altro prodotto che mi è stato inviato E che mi è piaciuto particolarmente È la maschera all'oro Questa contiene collagene idrodizzato E hexapeptidi 2 E praticamente è questa maschera pilotto Che appunto è color oro È dorata Questa contiene anche oro 24 carati Che aiuta nell'effetto tonificante Nell'effetto liftante Va applicata con una normale pilotto maschera Quindi sul viso Consigliano di applicarla Proprio per comunque intensificare L'effetto lifting Dal basso verso l'alto Si lascia asciugare Normalmente questa c'è scritto Tra i 15 e i 30 minuti Io per regolarmi meglio In base anche magari In alcuni punti Dove l'ho messa un pochino di più Vado a toccare con il dito Quando sento che è tutta asciutta Vado a rimuoverla Si toglie tranquillamente Come una normale maschera pilotto Quindi si Si stacca dal viso E poi gli eventuali Rimasugli che possono esserci Magari sia un po' attaccata Qua ai capelli Perché non l'ho stesa bene La rimuovo Semplicemente con un po' di acqua calda E con Una spugnetta Semplicemente E vado a rimuoverla La pelle comunque è molto più compatta Molto più Più tonica Molto più Più luminosa Penso che sia comunque l'effetto Dell'oro E mi piace molto Io normalmente il siero e il contorno occhi Li applico dopo aver applicato La maschera dorata Applico la maschera dorata La vado a togliere Poi vado ad applicare il contorno occhi E il siero E poi col siero faccio Il massaggio Con il Banab Chiamiamolo così Quindi Questi sono i prodotti Che mi sono stati inviati Da eStyle Vi metto qui sotto Nel box informazioni I link dei prodotti Dove potete andarlo A vedere A rendervi conto Se possono essere o meno Adatti a voi E fatemi sapere Che ne pensate Se c'è qualcosa Che vi incuriosisce Magari vi rispondo qua sotto Nel box informazioni E il prossimo video Sarà un video Di make up Farò un tutorial Che è già registrato In realtà E Quindi Spero che questo video Vi sia piaciuto Che vi abbia fatto scoprire Dei prodotti nuovi Da decendare un'occhiata Perché comunque YeStyle Ha moltissimi prodotti Di make up Di Cosmetica Di beauty Di Se non sbaglio Anche abbigliamento E E basta Detto questo Vi saluto Ciao Al prossimo video